I maschietti di qua, i livelli qua, gli albanini, qui avete due microfoni, accomodatevi qua, di solito Albano lo spacca il microfono, vediamo voi che cosa farete, non vi avvicinate al microfono lo toccate che c'è la corrente, poi per tutte queste sciocchezze che mi state facendo dire maestro Resicca deve me denunciare, pronti, vai! Felicità, bambino c'è, è meglio la bella, felicità, è felicitico, le bambine, felicità, felicità! Felicità, la riscino di fiume, l'acqua del fiume, che fa, ci fa, è la fiume che scende l'errore della felicità, la felicità, felicità, felicità! mi rendendo di fiume, non ci fa, ci fa, è la felicità, è la bambina c'è, è la fiume, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.